Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare i progetti di numerosi comuni della provincia di Salerno per l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza con fondi del Ministero dell'Interno. I comuni che hanno presentato richiesta di finanziamento sono 65, dei quali 59 hanno avuto una prima approvazione preliminare alle successive verifiche del Ministero dell'Interno. Sono 14 i comuni che si sono associati per presentare 6 progetti di ambito sovracomunale. Riprende annunciare inferiore l'attività di controllo della videosorveglianza della città dopo la nomina di due ispettori ambientali volontari, quali auxiliari di polizia giudiziaria preposti alla visione delle telecamere di sorveglianza al fine di individuare i responsabili di eventuali reati ambientali, è stata potenziata l'attività di controllo e monitoraggio dei conferimenti illegittimi in città attraverso appunto gli impianti di videosorveglianza. Il Ministero dell'Interno ha finanziato la progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza e risanamento della zona Valanghe Grotta Rossa a Caggiano. Il finanziamento pari a 300.000 euro circa è stato ottenuto dalla comunità montana Selle Tanagro e completa la progettazione già effettuata dell'area San Francesco per un successivo intervento globale di quasi 6 milioni di euro. Si sono conclusi a Cazzellabate i lavori per il rifacimento del ponte Cavafosse in via delle Ginestre, un'opera infrastrutturale di grande importanza che risolve una problematica da anni esistente sul territorio. Ha riaperto le sue porte l'area archeologica sotto Piazza del Corso a Nocera Inferiore e la monumento funerario risalente all'epoca romana occupa una posizione di rilievo nel centro cittadino lungo l'antica via che collegava Nuceri al Faterna a Stabia. La villa rivela i resti di una residenza romana che ha conservato tracce della sua esistenza fino al quinto secolo d.C. Si terrà il 15 maggio all'ospedale di Battipaglia un corso di formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica promosso dall'ASL di Salerno che vedrà come docente il dottor Giuseppe Colangelo, dirigente medico alla cardiologia UTIC dell'ospedale Villa Malta di Sarno. Il corso si terrà dalle 15 alle 17 nell'aula riunioni dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Per partecipare occorre inviare una mail a pediatria.pobattipaglia.gmail.com